Il mio nonno era fornaio, dunque, e poi avevo la boutica, dunque era una famiglia, non erano ricchi, ma però non troppo poveri. Il mio papà ha lavorato tutta la sua prima parte della vita nel forno, portavo il pane con uno dei suoi fratelli nella gabbia, mi pare che si dice, nel paese lontano, non c'erano strade all'epoca, sentire piccole e piccole, e poi lo portavo sulle spalle. In quel momento in Italia si mangiava più tanta polenta che pane, ma un solo fornaio per una quantità di superficie, troppo importante, finalmente. E poi, dunque, è arrivata la guerra, ha fatto una parte della guerra, la fine della guerra, e poi dopo la guerra è stato incorporato nei carabinieri. I carabinieri, dunque, si è trovato che una volta li hanno mandato nella regione di Trieste, non li avevo contato, ma perché il mio papà parlava poco, dunque, erano andati a Trieste a reprimere una manifestazione, era stato obbligato a fare il colpo di fuoco, a tirare sulla folla. Dunque, a lui non è piaciuto quella cosa lì, e quando è rientrato ha demissionato dal suo posto, ma a demissionare in quell'epoca dove si cominciò ad avere l'epoca musulmiana che si preparava, non era un fatto ben visto, finalmente. Dunque, lui è stato obbligato di partire, è emigrare, è emigrare, è emigrare, è emigrare, è emigrare, è emigrare, in Francia, nel 1920. Il è emigrare nella regione di Jura, il primo anno che lui è venuto in Francia. È stato, nel Jura forse, negli anni 1925, dunque è venuto dopo nella regione del Trièvre, qui all'Ale, dove è sempre stato, dunque i primi anni che ha fatto la vita lì, arrivavo alla primavera, andavano in Italia all'autunno quando arrivavo in cattivo tempo, avevo un contratto di lavoro per sei mesi o di più e poi doveva tornare ancora in Italia, ha fatto quella vita, lì dopo si è sposato lui, lui in 25 mi pare, dopo io sono nato nel 1927, dunque è venuto in Francia con mia mamma e io nel 1929 al mese di maggio, dunque io avevo un anno e qualche mese perché sono nato al mese di dicembre 1927. La vita ha cambiata quando è arrivata la mia mamma perché c'era più tanta vita di famiglia, prima i migranti facevano la vita nei boschi, non avevamo i soldi per stare nel paese, dunque facevano la cabana nei boschi e poi passavamo tutta la campagna nei boschi. Quando siamo arrivati con la mia mamma la vita ha cambiata, dunque abbiamo la casa e poi la mia mamma lavorava tanto e dunque un po' più soldi rientrava alla fine del mese, dunque hanno fatto quella vita lì. Sempre il mio papà lui ha sempre avuto la passione del bosco, sempre, non ha mai voluto fare altre cose che il bosco, soltanto alla fine della sua vita ha fatto qualche anni insieme ai muratori perché alla fine della stagione quelli che facevano i boscaioli avevano tutti il motorio, la moto, dunque intanto che io ho lavorato insieme a lui, dopo è arrivata un'epoca dove io non ho lasciato il bosco per fare un altro lavoro, lui non ha più potuto andare nel bosco perché lui era troppo, troppo vecchio per prendere la moto, dunque ha lasciato il bosco, avevo 57 anni quando ha lasciato il bosco e ha lavorato ancora qualche anni nei muratori del paese per aspettare la pensione. dunque in entrattempo lui ha comprato la casa nel 1952 e poi abbiamo arrangiato la casa e per lui ha comprato qualche toccato di bosco e per lui è stata la più bella cosa che aveva fatto nella sua vita avere un tocco di bosco a lui, a vedere andare su le piante, la sua vita l'ha terminata nei suoi parceri di bosco, dunque gli ultimi anni, due anni prima di partire non era troppo salute, ma però fino alla fine è andato nel bosco proprio vicino, aveva due canna e arrivavo ancora in fine dei suoi boschi, dunque è morto il 7 gennaio 1982 e il mio papà a tutta la sua vita è stato, ha avuto una vita felice e le sue ultime parole mi ha detto se voi volete essere heureux, come si dice in francais, fate come io ho fatto io, senza sans bruit, una vita per vivere, in francais on dite per vivere heureux vivons cachet, dunque e poi è partito così, i suoi due anni prima non sono stati troppo facili per lui, ma però lui ha sempre avuto piacere da vivere, lui diceva sempre io se ho un po' di pane e un po' di vino per me è basta, io domando avere un po' di pane e un po' di vino, perché lui il vino ci piaceva tante, la vita del mio papà, dunque il mio papà era un uomo che parlava poco, ma soltanto con lui ho sempre, non ho mai avuto dei problemi, neanche piccolo, si quando ero piccolo e con tutti i genitori mi ha, mi ha dato qualche volta, basta, ma non c'è non c'è mai stato un problema difficile, invece la mia mamma, lei era un'altra, un'altra faccia, il mèmè di un'altra faccia, lei non diceva mai niente, mio papà lui faceva tutto, diceva tutto, lei era la sua servante e mi amava tanto, anche lei, ma le cose erano così a quell'epoca, non c'erano tante effusioni, tante marche, non si abbracciavano mai o poco e poi il principale successo era di lavorare per avere i soldi per andare avanti, dunque anch'io mi hanno fatto lavorare quando c'erano le ferie alla scuola e poi dopo avevo 13 anni ad andare a lavorare perché se dobbiamo avere i soldi per andare avanti e dunque questa cosa mi hanno fatto lavorare ma era normale, mi amavano tanto io, amavo tanto i miei genitori, abbiamo passato epoca difficile e abbiamo avuto bisogno di una buona ambianza, una buona ambianza nella casa, quando c'erano a casa tutti e tre era sempre, non c'è mai avuto conflitti, mai, non ricordo di aver visto conflitti, no, mai, anche quando erano più giovani hanno sempre fatto le cose come ho voluto, senza senza avere senza avere confronti con i miei genitori, no, dopo quando ho avuto venti anni ho voluto prendere la nazionalità francese, loro non hanno hanno accettato e poi ho fatto il soldato e poi dopo mi sono sposato ma sempre sempre in questo clima di buona ambianza sempre, non è mai, è stato importante quella cosa lì, quando mi sono sposato con una francesa, si sono sempre, hanno avuto sempre affezione per lei, come per me, erano proprio un papà e una mamma, così, hanno tanto lavorato e per me è stato un esempio, scusatemi, abbiamo sempre avuto tanta tanta affezione, per me, per loro, papà e la mia mamma e la mia mamma e il mio papà e la mia mamma sempre per me sono stati sempre affezionati, sempre, sempre, non avevano tanti soldi per fare ma sempre hanno fatto tutto quello che hanno potuto per me. e la mia mamma voleva andare a scuola perché la mia maestra avevo detto ai miei genitori che ero capace di fare le cose, e il mio papà, lui, non pensava troppo a quelle cose lì, per lui, lavorare da una parte o dell'altra per lui era lo stesso, la mia mamma no, lei aveva voluto che, ma era il mio papà che ha deciso dunque, è stato così, e poi io non avevo troppo l'amore di andare in scuola, dunque le cose sono state così, fino all'ultimo momento della loro vita le cose sono state semplici, semplici, ma con una grande, grande, grande affezione, io per loro e loro per me, è stato così, perché io ho avuto un fratello che era morto prima di me, piccolo, piccolo, forse hanno riportato questa affezione su me, io penso che è qualcosa così, si chiamava Antonio, si, è morto, era piccolo, dunque è stata così la mia vita con i miei genitori, il papà e dunque e la mamma, tutti e due, abbiamo passato una vita tranquilla, mica sempre una vita facile, perché i migranti hanno avuto una vita dura, anche con i rapporti con la gente originale del paese, ma piccolo a piccolo le cose si sono andata bene e poi il mio papà era sempre disposto a fare qualcosa per la gente del paese, andare a via, a fare qualcosa, le loro idee a fare, dunque il mio papà è stato sempre ben visto nel villaggio, sempre, la vita è passata così, tutto facilmente. Sulla situazione dei migranti, i primi migranti che sono arrivati prima della guerra, sono i migranti di quella epoca, non avevo il diritto di fare niente, di dire niente, solo il diritto che avevano era di lavorare, e poi basta, mai non si, non si, non si, ci simmenoge ancora, le politiche non potevano dire niente, mangiare e lavorare e basta, infine la guerra, poi è arrivata la guerra, è stata un'epoca difficile per noi perché i francesi è normale, non ho mai capito la decisione di Mussolini di entrare in guerra contro la Francia e volevo dire qualcosa, io avevo 12 anni, quel giorno che l'Italia ha dunque dichiarato la guerra alla Francia, avevo 12 anni e sentivo che era una cosa brutta. Mi ricordo sempre quando sono arrivato alla scuola, la nostra maestra ha detto così, ieri l'Italia ha dato un colpo di poignard, non so come si dice in Italia, nel dos della Francia, e c'è una cosa affreuse perché la Francia ha contribuito a fare che molti italiani hanno mangiato in Francia e hanno fatto vivere la loro famiglia con il lavoro che hanno fatto in Francia. È stata una perioda tanto difficile e poi tante famiglie italiane sono rientrate in Italia, forse non è stata una bella cosa, perché i francesi hanno detto sì, sono andati in Italia per combattere i francesi. Il mio papà lui è restato con una famiglia o due e poi dopo le cose sono piccole a piccolo sono ancora venute normali. Certo se ne è sempre stata qualche famiglia, è un po' più difficile, ma la maggioranza della popolazione del paese hanno compreso e non hanno mai manifestato molta cattività di mio papà, dopo la guerra le cose sono state di altri, più facile, i soldi, il lavoro si era mai pagato, le cose sono sempre andate più bene, ha comprato la casa e tutto. Sempre volevo dire quelle cose lì, perché forse in Italia non hanno capito bene la sofferenza dei migranti, il lavoro dei migranti e poi le relazioni dei migranti con la popolazione. Forse la popolazione italiana che non ha fatto anche la vita, i governatori forse non hanno mai capito la difficoltà dei migranti a essere in quel paese, quando non c'è nella sua patria. E così, volevo dirti, parlando del mio papà, ho detto tutta l'ora che lui era sempre stato, il suo ringresso è stato di riposare nella terra straniera, quando era morto, il suo ringrazio è stato di riposare nella terra straniera e poi basta. La resistenza, come lo sapete, in Francia è stata, come si dice, c'è stato molti fatti di eroismo e poi tanti fatti di cose non troppo belle, ma in quei tempi, quando le cose sono come erano in quel momento lì, è difficile di fare in un'altra maniera. Avete tutti saputo quello che si è passato nel Verkort, nelle tante bande della Francia, a Ouadour, sono stato io a Ouadour, a vedere cosa si può fare un uomo, non è possibile di pensare che si può arrivare a una bestialità così, non si può pensare. a mettere 600 persone, 400 persone, donne e bambini nell'accesa e bruciare tutto, è orribile, è orribile. Dunque nella mia vita io ho avuto due figlie, un garzò e un figlio, il mio figlio è morto che aveva 33 anni, è stato per me qualcosa di terribile, perché era il mio figlio, il mio figlio era proprio la rappresentazione del suo nono e anche Dio, avevo la mia, la stessa, la faccia di vedere le cose e poi basta, è stata così la vita. Ho avuto un figlio che era proprio qualcosa di meraviglioso, era bella, la gente si tornava quando passava lei, aveva una forte personalità, tutto il suo tempo libero, non ho avuto fortuna anche lei, non voglio dire tutto, ma il suo tempo libero l'ha sempre passata in viaggio, specialmente nelle parti del mondo dove era la miseria, lei si trovava bene, in messa di quella gente, piccola gente, povera, malore, e lei andava sempre a cercare a portare un po' qualcosa che la gente defavorise, come sa. Mi ha, tutti e due mi hanno fatto tanto bene nella sua vita e poi è andato, aveva 41 anni nella, 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 la flore dell'agio, finalmente, la vita è stata così per noi, dunque, quando si è passato delle cose così, non ne vive più, non viviamo, non surviviamo, abbiamo, abbiamo, abbiamo la chance di essere ancora tutti e tutti due insieme, perché non è facile, non è facile, non è facile, gli anni passi, fa più di 21 anno che è morto il mio figlio, lo stesso che si fosseva ieri, anche lo stesso per la mia figlia, e poi è così la vita, è così la vita, non è bella, per per noi non è stata bella, però bisogna, bisogna, non, non, non c'è, non c'è. Io poi dò possibilità, noi siamo obbligati a vivere con questa, la portiamo come si può la portare, ma veramente, delle prove cambiano molte cose nella vita si vede la vita di un'altra maniera specialmente spiritualmente le cose sono tutte cambiate più niente del valore che abbiamo conosciuto prima non hanno più valore adesso ma avevo qualcosa nella mia figlia che passavo passavo normalmente tra lei e quella gente piccola e defavorisata e così passava il fluido che passava la gente non poteva parlare a una certa persona lei sempre riuscisse sempre era così la mia figlia generosità sempre l'argent per lei non contava solo il rapporto umano che aveva con le gente humble e si senti bene con le gente defavorisata e si senti bene 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 c'è stata mia figlia c'è stata mia figlia e si senti bene e si senti bene e si senti bene e poi è partita e poi si senti bene e si senti bene e si senti bene e si senti bene toujours aveva toujours un sourire e pourtant elle devia soffrire enormemente c'è come s'è via grazie la fortuna di avere ancora i figli dopo io penso che noi siamo una luce per loro e che siamo un punto di un punto europeo e sempre loro avranno questa luce e mi pare che le cose non si finiscono quando che noi andiamo figli avranno sempre è la mia e la mia convinzione forse non è vero ma per me è così ho la convinzione che tutto quello che abbiamo fatto sarà impregnato nella sua idea nel suo cuore se delle volte si pare che loro pensano a poco ai suoi no io credo che tutto quello che abbiamo fatto tutta quella luce che luce che siamo per loro sarà sempre sempre presente nel suo cuore io penso così non so sia giusto ma per me è così